E già d'attimo mattino arriveranno rovesci temporali sul Veneto e sul Frigli di Sicilia. Le temperature massime rimavano calde e destine da nord a fuoco. Vuoi che non sempre rimanete aggiornati sulla nostra app, metto tu in qui. Capri il cancello, no? Guarda, la cuore! Capri il cancello, no? Capri il cancello, no? ... no